Forse la paura ha fermato la tua mano, ma non credo che sia viva ormai la donna che hai straziato. Non credo che sia viva, è viva la tua mano dove lei sarà ora. La paura è rimasta in te da mille anni, mille anni ora, per trovare dove sei, amata Carmen.